buon pomeriggio buon pomeriggio e buona domenica a tutti da karim allora nuove previsioni di million day da oggi domenica 14 aprile per stasera che vuole a giocare che che può andare a giocare perché non lo so se non lo so se qualcuno ce l'ha aperto tabacchiera le civiteria tabaccheria dove andare a giocare oppure da domani lunedì potete giocare ok come volete voi allora come sempre abbiamo fatto anche poco questa settimana con million day non sono grosse non sono grosse vincite va bene proviamo questi di nuovo e speriamo bene ok allora le previsioni sono questi ragazzi amici 37 30 35 47 e poi abbiamo il 19 23 26 30 e 35 avete accorto avete visto che c'è il 30 il 35 ripetute due volte per quelli che giocano il sistema ridotto oppure giocati normali come sono senza 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 problemi come sono fatti importante giocarli con l'extra io non scrivo mai con l'extra voi scrivi se giocate con io consiglio di giocarle con l'extra è un'altra cosa io e poi scegliete che vuole a giocare luna che vuole a giocare alla sera voi la vostra scelta come volete voi ok e spero spero con bene con il cuore ok allora che un'altra cosa che vuole dire tra poco entro stasera si riesco a preparare il il notto e anche il 18 e speriamo bene ok aspettate un attimo che finisce il tempo dopo adesso preparo e la carico su youtube e poi anche sui tutti i gruppi che la vuole giocare un'altra cosa grazie che il vostro commenti che mi iscrivete sempre il vostro like grazie ancora di vostro like che mettete sempre il like e che non ancora iscritto si iscrivete al canale e lo sapete che vi notate sempre gratuitamente le previsioni ok la prima domenica che sto a casa senza lavorare lo sapete che il lavoro faccio facevo il pizzaiolo una volta adesso basta adesso la prima domenica che sto a casa anche sabato ieri ero a casa felicissimo tranquillo rilassato 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 senza stressarmi senza dire le parolacce non lo dico però senza strada estrarmi però sto tranquillo se non è rilassato ok che vero a stare anche sabato il sabato e domenica a casa due giorni alla settimana bello 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 non sono abituato a stare a casa dopo tanti anni adesso mi sto abituando piano piano con un nuovo lavoro speriamo bene speriamo che vada tutto 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 bene 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 alla prossima ragazzi ciao ciao buon pomeriggio buon pomeriggio e buona domenica a tutti da karim allora nuove previsioni di million day da oggi domenica 14 aprile per stasera che vuole a giocare che che può andare a giocare perché non lo so se non lo so se qualcuno ce l'ha aperto tabacchera ricicteria tabaccheria dove andare a giocare oppure da domani lunedì potete giocare ok come volete voi allora come sempre abbiamo fatto anche poco questa settimana con million day non sono grossi non sono grosse vincite va bene proviamo questi di nuovo e speriamo bene ok allora le previsioni sono questi ragazzi amici 37 30 35 47 e poi abbiamo il 19 23 26 30 e 35 avete accorto avete visto che c'è il 30 e il 35 ripetuto due volte per quelli che giocano il sistema ridotto oppure giocati normali come sono senza 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 problemi come sono fatti importante giocarli con l'extra io lo scrivo mail con l'extra voi scrivi se giocate con io consiglio di giocarle con l'extra è un'altra cosa io e poi scegliete che vuole a giocare luna che vuole a giocare alla sera voi alla vostra scelta come volete voi ok e spero spero con bene con il cuore ok allora che un'altra cosa che vuole dire tra poco entro stasera si riesco a preparare il notto e e speriamo bene ok aspettate un attimo che finisce il tempo dopo adesso preparo e la carico su youtube e poi anche sui tutti i gruppi che la vuole giocare un'altra cosa grazie che il vostro commenti che mi iscrivete sempre il vostro like grazie ancora di vostro like che mettete sempre il like e che non ancora iscriveteci iscrivetevi al canale e lo sapete che vi notate sempre gratuitamente le previsioni ok la prima domenica che sto a casa senza lavorare lo sapete che il lavoro faccio facevo il pizzaiolo una volta adesso basta adesso la prima domenica che sto a casa anche sabato ieri ero a casa felicissimo tranquillo rilassato rilassato relax senza stressarmi senza dire le parolacce non lo dico però senza stressarmi però sto tranquillo se non è rilassato ok che bello stare anche sabato il sabato e domenica a casa due giorni alla settimana bello bello sono abituato a stare a casa dopo tanti anni adesso mi sto abituando piano piano con un nuovo lavoro speriamo bene speriamo che vada tutto 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 bene 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 alla prossima ragazzi ciao ciao